Silenzio, grazie, pronti a girare, un amore, 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 un amore. Un amore, un amore. Un amore, 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 un amore Non è già giusta così. Mi capita di vivere esperienze come questa, cioè di realizzare degli spot pubblicitari. Io lo faccio con la stessa attitudine che ho quando faccio un film. L'impegno professionale è identico. Non affronto le due cose pensando che una delle due rappresenta qualcosa di molto più importante e l'altra no. Mi sono divertito e quando ti diverti lavorando vuol dire che era tutto giusto. Che c'è dietro la semplicità di questi spot. Perché apparentemente sono semplicissimi. Invece hanno una struttura molto complessa perché abbiamo dovuto, c'è la selezione dei clienti. È stato un lavoro molto complesso. La realizzazione di queste interviste fatta prima delle riprese dei singoli spot. Ok, perfetto. Questi clienti dovevano semplicemente raccontare la loro esperienza, la loro felice relazione con la loro banca. È stato molto bello sentire dai nostri clienti quello che pensano di noi. Ma soprattutto è stato bello ascoltarli parlare di noi in maniera molto spontanea. Non è stato necessario forzare alcunché. È uscito tutto in maniera molto naturale. Sono state delle interviste splendide. Sono uscite parole meravigliose. È stato molto difficile selezionare i clienti che avrebbero partecipato allo spot. E non sottovaluterei il fatto che il nostro amministratore delegato sia stato protagonista di uno spot con un direttore che ha vinto un premio Oscar professionista serissimo. Belli, belli. Un sorriso dovevo che ti conti che sia. Anche in quei momenti in cui sembrava che fosse un po' esageratamente ostentata la loro felice relazione con la loro... Invece, poi parlando con loro durante le pause, mi sono reso conto che dicevano esattamente quello che pensavano. Persone prese dalla vita reale che raccontano la loro esperienza, ma attraverso un approccio stilistico, fotografico che ne celebra una bellezza, una purezza, che talvolta si riconoscono soltanto ai grandi attori nel cinema. Il mio family banker è una persona fantastica. Questo rapporto personale tra i clienti e questa specie di angelo custode che li segue nella vita quotidiana per anni, questo un po' caratterizza, dà una cifra particolare. Banca Mediolanum per me è una famiglia. Queste testimonianze sono la dimostrazione che Banca Mediolanum, costruita intorno a te, non è un semplice slogan, ma è effettivamente quello che cerchiamo di fare tutti i giorni per soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente. Per me Banca Mediolanum è sempre un passo avanti.